Ma bentornati o benvenuti se siete nuovi in questo canale, in quel caso vi invito a iscrivervi. Oggi parliamo del primo giorno della mia vita, il nuovo film di Paolo Genovese. Anche perché detto così sembrava che io volessi parlarvi di quando sono nato. No, non è questo il caso. Torniamo ancora una volta per quest'anno a parlare di cinema italiano e torniamo ancora una volta a parlare di cinema italiano di qualità. Per me, per quanto riguarda l'Italia, Paolo Genovese è un po' sinonimo di sicurezza. Cioè quando mi vado a vedere un suo film sono quasi sicuro che mi andrò a vedere un film in grado di emozionarmi o quantomeno di intrattenermi, soprattutto con, diciamo, gli ultimi film da Perfetti Sconosciuti a The Place, a Supereroi, uscito credo l'anno scorso se non sbaglio, a quest'ultimo, è sempre riuscito a creare delle storie nelle mie corde. Io amo molto scrivere e raccontare storie e ogni volta penso che il tipo di approccio che ha lui alla scrittura è quello a cui io cerco sempre di avvicinarmi. La cosa che mi piace molto dei film di Genovese è che sono tutti accomunati da questo filo di malinconia, da questa amarezza di fondo che poi sfocia in speranza. E questo è un po' un filo comune a tutti i film di Paolo Genovese, compreso quest'ultimo appunto, Il primo giorno della mia vita, che tra l'altro è tratto da il romanzo omonimo, scritto sempre da Paolo Genovese, che io ho letto tempo fa e mi era piaciuto davvero davvero tanto. Di cosa parla questo film? Di base parla di quest'uomo misterioso interpretato da Tony Servillo, e tra l'altro questa è una cosa che mi incuriosiva molto, cioè Tony Servillo diretto da Paolo Genovese, secondo me è una coppiata perfetta. Comunque parla di Tony Servillo, il personaggio di Tony Servillo, che è quest'uomo misterioso, che si presenta a quattro persone nel giorno in cui stanno toccando il fondo, cioè nel giorno in cui stanno pensando di volerla fare finita, cioè che non vale più la pena vivere, passare del tempo sulla terra. Lui si presenta a queste persone facendo loro una proposta, dando loro un'opportunità. Non vado oltre perché non ho visto il trailer, quindi non so quanto viene detto nel trailer, e non vorrei fare spoiler, non vorrei fare altro, cioè scusatemi se dicendo la trama ho fatto gli spoiler, non credo, vabbè di base la storia è questa e insomma si scopre anche nei primi minuti che è questa, però non vado oltre. Di base definirei questo film un elogio alla vita, ma non un elogio alla vita perché si parla di gente che la vuole fare finita e allora per contrapposizione c'è tutte queste frasone sulla vita, la vita è splendida, va vissuta, no. È un elogio alla vita perché ti porta a guardare la quotidianità da un'altra prospettiva, cioè ti porta a vedere il bicchiere mezzo pieno pur non scendendo nei soliti cliché. E in film del genere è veramente facile scendere in cliché, in banalità. Questo film non lo fa, è un elogio alla vita perché veramente mentre guardi il film pensi che nonostante tutto, nonostante le mille difficoltà che tutti noi possiamo affrontare, forse se scaviamo, se cerchiamo bene, c'è sempre un motivo per continuare a vivere, c'è sempre un motivo per mantenere la testa alta. C'è una scena stupenda, secondo me, una delle scene più belle del film, in cui Tony Servillo porta in una terrazza queste persone e li fa affacciare da questa terrazza e chiede loro, guardate tutti questi palazzi, secondo voi in mezzo a tutte queste persone quante sono realmente felici? A un certo punto fa spegnere tutte le luci, ripeto, lui è una persona molto particolare all'interno del film, ha anche queste capacità e poi dice, ok, ora vediamo una per una quante finestre si illuminano e si illumineranno solo quelle delle persone felici e si vede che queste finestre si accendono, si spengono, nel giro di pochi secondi cambiano, cioè finestre che prima non hanno accese poi si spengono, eccetera, perché la felicità è davvero a volte istantanea, a volte un attimo, basta così poco per essere felici ma basta anche molto molto poco per essere infelici e forse gli unici artefici, non del nostro destino, ma della felicità, della ricerca della felicità, per citare un altro film italiano, siamo noi e spesso forse è comodo piangersi addosso, dire, di essere tristi, pensare che tutto vada male, pensare che tutto ci remi contro, che il mondo ci remi contro, quando invece forse bisognerebbe solo avere un po' di determinazione in più, un po' di coraggio in più per affrontare tutti gli ostacoli che giorno dopo giorno siamo costretti ad affrontare e forse cambiare prospettiva, vedere questi ostacoli come delle sfide quotidiane che ci rendono più forti e che ci rendono sempre un passo più vicini alla felicità e soprattutto non dobbiamo mai considerare la felicità come una meta, ma solo come un punto, un checkpoint, cioè noi dobbiamo raggiungere la felicità ma essere consapevoli che quella felicità non durerà per sempre e dobbiamo cercare di custodirla, di prenderci tutto quello che quel momento felice può darci, farlo nostro e prenderci tutto il positivo, renderci attraverso quel momento delle persone migliori per poi andare avanti, affrontare altre sfide e trovare l'altro momento di felicità. Questo credo sia un po' la chiave di lettura di questo film e secondo me lo fa molto bene con una delicatezza tale che, ripeto, non scende in banalità e soprattutto non cerca necessariamente di far piangere lo spettatore. Lo scopo del film secondo me è quello di emozionarlo. Guardando il film provi tantissime emozioni diverse, provi la penna, la compassione, la tristezza, la gioia, ridi perché ci sono dei momenti in cui ridi e tra l'altro è assurdo che il personaggio di Valerio Mastandrea, che è il più cupo di tutti, sia quello che poi alla fine faccia più ridere. È quasi grottesco in alcune cose e quindi ci sono tutti i sentimenti, ma ci sono tutti i sentimenti perché in realtà nella vita di tutti i giorni e nella felicità stessa ci sono tutti i sentimenti. Nella felicità c'è la gioia pura, ma c'è anche la tristezza, c'è la malinconia. Spesso si è felici, ma la felicità non è nient'altro che un mix di tutte le emozioni, nella quale magari prevalgono di più le emozioni positive che quelle negative. E così come ci sono tutte queste emozioni nel sentimento e la felicità, così è variegato il gruppo che viene creato appunto dal personaggio di Tori Servillo, un gruppo così variegato, così diverso l'uno dall'altro, quasi come se ognuno di loro fosse un'emozione diversa, ma tutti con uno scopo, ritrovare la felicità. Quindi tutti insieme potrebbero essere il singolo elemento che poi porta alla felicità. E credetemi, credo che raccontare una storia del genere, non risultando banali, ma addirittura mettendo degli elementi che possono addirittura stupire lo spettatore, e con stupire non intendo dei colpi di scena, perché forse il film è fin troppo lineare, privo di colpi di scena, ma stupire lo spettatore perché ti porta a riflettere, a pensare su determinate cose che magari dai per scontato o al quale non avevi mai pensato. E quindi riuscire in questo intento, trattando un tema così delicato, ma anche così tanto trattato al cinema, e che quindi appunto di facile copiatura, insomma di facile, è facile avere quella sensazione di già visto, invece con questo film non succede, e torno a ripetere, fare, riuscire in questo intento, secondo me non deve essere stato affatto facile, infatti se non sbaglio tra l'altro Genovese ha detto che è il film per cui ha impiegato più tempo a scriverlo, è stato molto complicato girarlo, ma di cui va molto molto fiero, e secondo me fa bene perché c'è da andare fieri quando riesci a tirare fuori un'opera così importante, su un tema così importante. La scelta del cast poi l'ho trovata sensazionale, Tony Servillo, Valeria Massandrea, Lapuccini, Margherita Bui, Sara Serraiocco, Lino Guanciale, che fa una piccola parte, ma comunque molto molto bravo anche lui. Così come una piccolissima parte ce l'ha Giorgio Tirabassi, ma che anche quella parte molto importante è secondo me personaggio molto nelle corde di Tirabassi appunto. E poi Gabriele Cristini, un ragazzino, un bambino, che è però veramente in grado, forse uno dei personaggi più emozionanti, un po' per la storia che ha, un po' per l'innocenza accostata a un tema così importante, e secondo me lui è stato molto molto bravo a vestire i panni di quel personaggio, è riuscito a far trapelare, a far uscire fuori tutte le emozioni che doveva far uscire. Quindi veramente un cast super eccezionale, secondo me diretto egregiamente da Paolo Genovese, che vabbè ormai diciamo è molto molto esperto in questi film corali. Poi con Valero Massandrea ormai c'è una sorta di connubio, cioè stanno facendo un sacco di film insieme, secondo me è una bellissima coppia. Tra l'altro Valero Massandrea ha in sé proprio nelle espressioni, negli occhi, nel modo di recitare, nella postura, quella malinconia che è tipica dei film di Genovese, quindi secondo me è perfetto nel mondo di Paolo Genovese. Poi vabbè a un certo punto parte Naudi e quindi lì è stato per me un colpo al cuore perché Naudi è il mio compositore preferito e poi io non riesco a non emozionarmi quando sento una singola nota di Naudi. Lì hanno messo Experience che è il mio brano preferito, quindi è stato veramente un colpo al cuore quando è partita. Poi si vede un aroma triste, un aroma buia, un aroma quasi sempre notturna, ma che poi ti lascia con la sua bellezza quella speranza e quella voglia di vivere. Quindi è tutto coerente, dalle musiche alle location, alla scelta dei personaggi, è tutto coerente col tema che viene trattato in questo film. E mi è piaciuto veramente tanto, quindi non posso fra l'altro che consigliarvi di andare in sala a guardarlo perché ne vale la pena e sicuramente in un modo o nell'altro uscirete con tante emozioni all'interno della vostra anima. Io come sempre vi ringrazio per aver avuto la voglia e la pazienza di guardare anche questo video. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi nessun contenuto e vi invito anche a lasciare un like al video perché per me è davvero, davvero importante. Inoltre fatemi sapere con un commento qua sotto, mi raccomando, commenti, tutti no spoiler. Se avete già visto questo film, se lo andrete a vedere, se avete letto il libro, insomma fatemi sapere che cosa ne pensate, ma sempre commenti no spoiler. Se invece ne vogliamo parlare tranquillamente senza rischiare di fare spoiler a nessuno, potete seguirmi su Instagram e contattarmi in direct e lì ne parliamo quanto volete. E io vi aspetto al prossimo video. Dai! E io vi aspetto al prossimo video.